Amici di Unibet, eccoci qua. Oggi presentiamo la partita Italia-Albania che si giocherà a Palermo, gara valevole per la qualificazione del campionato mondiale in Russia, vincere per poi andartela a giocare con la Spagna per cercare di arrivare primi nel girone e passare direttamente. È chiaro che oggi saranno delle cose oltre che il risultato delle curiosità, perché Buffon farà le mille presenze nella sua carriera, ha iniziato a 17 anni, quindi grandi complimenti a Buffon perché è stato secondo me uno dei più grandi portieri della storia mondiale. Poi dopo quattro anni tornano quattro giocatori dell'Inter che sono Eder, Cantreva, Gagliardini ed Ambrosio alla prima convocazione. Gli ultimi erano stati Vieli, Materazzi, Cannavaro, c'era Toldone, il portierone e Cristiano Zanetti, quindi dopo tanti anni quattro giocatori interisti. Da parte di Ventura mi aspetto una gara con 4-2-4, in mezzo mi aspetto Verrati e De Rossi, oppure c'è l'alternativa a Gagliardini, i due larghi saranno a destra Candreva e Insigne a sinistra e davanti una bella coppia, secondo me Belotti, immobile. Quindi mi aspetto una grande gara, dovranno essere aggressivi contro un'Albania che negli ultimi tempi ha fatto un grande lavoro con De Biasi, però alla fine l'Italia deve vincere. Sono sempre Evaristo, scusate se insisto. Grazie a tutti.